ciao amici rossoneri ben ritrovati sul nostro canale youtube a cimiliani site per un nuovo video dove vi andrò a parlare della situazione allenatore per la prossima stagione prima di partire vi ricordo di seguire il canale e mettere like a questo video allora situazione allenatore al momento c'è stefano pioli e saldo sulla panchina rossonera come hanno dichiarato zlatan ibrahimovic e furlani nelle interviste di qualche giorno fa per quanto riguarda la prossima stagione i nomi sono tantissimi si continua ancora a parlare di antonio conte e addirittura per fine marzo potrebbe esserci un incontro con la società rossonera per definire il tutto addirittura si sono stati fatti nomi di un ipotetico mercato che il tecnico salentino ha chiesto il nome più caldo però ieri è uscita la notizia che conte sia stato che è stato proposto anche al barcellona quindi diciamo situazione è un po ingarbugliata intorno all'ex tecnico nella juve dell'inter e anche di celsia totera per quanto riguarda gli altri c'è tiago motta sta facendo benissimo con il bologna sta lottando per l'europa addirittura è stato anche in zona champions quarto classifica non è tanto distante come punti quindi si sta giocando la zona champions europa league e la conference con i felsini per la prossima stagione il suo nome è caldeggiato non dispiace alla società rossonera però ovviamente sono solo nomi voci che girano non c'è niente di concreto ieri un altro nome a sorpresa le peteghi del l'ex ct della spagna è stato accostato alla società di vialdo rossi e molto molti caldegiano dicono che potrebbe essere lui il prossimo allenatore del mila ovviamente facciamo una premessa pioli non è stato esonerato non è sicuro che sarà mandato via il tecnico emiliano ha un contratto ancora fino al 2025 quindi scade il 30 giugno 2025 quindi ha un altro anno di contratto con la società rossonera e a fine sagione si siederanno e valuteranno l'operato del mister ricordiamo che più le ha vinto uno scudetto ha riportato il milan in champions dopo 11 anni se l'anno scorso siamo arrivati in semifinale di champions league dove l'abbiamo persa malamente nel derby contro l'inter quest'anno le cose non stanno andando come dovevano andare e siamo stati eliminati nel giro di centro sapevamo si psg borussia d'ortum del newcastle girone ostico però con per come si era messa la situazione il minor poteva tranquillamente superare questo gruppo e avanzare andare avanti e quindi le ottime di finale siamo arrivati terzi tra virgolette retrocessi nella coppa minore quindi in europa league quindi giocheremo sempre l'europa infatti giovedì 15 febbraio a san silo ci sarà l'andata del playoff di europa league contro i francesi del ren in campionato siamo staccati di tanto dall'inter capolista che è nettamente più forte in tutti però il milano ha perso tanti punti nei pareggi con napoli e lecce dove vincevamo entrambe le partite nel primo tempo 2 a 0 le sconfitte casalinghe contro juventus udinese il pareggio di salerno e ci sono altri punti buttati via così è quindi il distacco è aumentato rivediamo che i nerazzurri hanno anche una partita da recuperare il 28 di febbraio a san siro contro l'atalanta perché c'era stata la super coppa italiana in coppa italia siamo stati eliminati ai quarti dal dall'atalanta perdendo 2 a 1 in casa san siro quindi diciamo non è una stagione delle migliori però una vittoria dell'europa league potrebbe salvare la panchina piuli chi lo sa a fine stagione si parleranno tecnico e società e il comune accordo troveranno una decisione se andare avanti oppure interrompere il rapporto al momento stefano piuli è l'allenatore del milan i nomi accostati per la prossima stagione se il tecnico emiliano dovesse essere allontanato dalla società di vialdorossi sono antonio conte tiago motta e le peteghe che è uscito ieri questi al momento ovviamente il mercato lo conosciamo tutti quanti benissimo fino a giugno saranno tanti altri nomi che saranno accostati alla panchina rossonera per il momento pensiamo al campo domenica sera abbiamo una partita importantissima san siro contro il napoli serve vincerla per aumentare il distacco dalle quinte così abbiamo l'opportunità di far rifiatare qualche calciatore in campionato per puntare all'europa league coppa che il milano non ha mai vinto né quando si chiamava coppa uefa né ora che si chiama europa league quindi è l'unico trofeo che manca nella bacheca di via aldorossi grazie a tutti vi ricordo quindi di seguire il canale youtube ac milan inside mettere like a questo video e ci trovate anche su instagram twitter facebook twitch sempre come ac milan inside poi per quanto riguarda il sito ac milan inside puntocom ci saranno delle novità che vi andremo a ricordare a delencare in seguito grazie a tutti e sempre forza milano